Evitare ad ogni costo il ripetersi dell'ennesima catastrofe umanitaria in Africa, nella penisola arabica. Con una cadenza drammaticamente ciclica, parte del continente africano è in preda a siccità e carestie, una carestia che minaccia Somalia e Sud Sudan nel corno d'Africa, ma anche la Nigeria e lo Yemen. Da Ginevra, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato un appello affinché non si ripeta una catastrofe come quella di sei anni fa. L'UNHCR ricorda alla comunità internazionale che la carestia del 2011 nel corno d'Africa è costata la vita a oltre 260.000 persone, più della metà erano bambini di meno di 5 anni. Dobbiamo evitare ad ogni costo che si ripeta qualche cosa del genere. Secondo l'ONU sono complessivamente più di 20 milioni di persone ad essere minacciate dalla siccità nei quattro paesi in questione, in cui l'UNHCR coordina vari programmi di intervento, programmi che ad oggi hanno ricevuto solo tra il 3 e l'11% dei finanziamenti.